fatima primo 7 luglio 1979 cenacolo internazionale di sacerdoti del movimento sacerdotale mariano provenienti dai cinque continenti in questa cova da eria vi ho chiamati da ogni parte del mondo e voi figli prediletti avete risposto con generosità al mio materno invito siete giunti qui numerosi in questa cova da eria ove dal cielo mi sono manifestata per donarvi un messaggio di fiducia e di salvezza per questi giorni difficili che state vivendo con voi sono spiritualmente uniti tutti i miei figli prediletti sparsi ormai in ogni parte della terra perché quest'anno vi ho voluto qui per stringervi tutti al mio cuore immacolato cosa può fare una mamma quando un grande pericolo minaccia i suoi figli raccoglierli fra le sue braccia racchiuderli in un luogo sicuro ove si trovano difesi e protetti ecco la difesa che vi dono la protezione di cui avete bisogno il mio cuore immacolato in questi giorni voi e tutti i miei figli prediletti voglio racchiudere nel rifugio del mio cuore per dare al vostro cuore di figli le stesse dimensioni del mio e così trasformarvi in una immagine sempre più perfetta della vostra mamma celeste è giunto il tempo in cui tutti dovete vivere senza dubbi e riserve la consagrazione che mi avete fatto per questo voglio mettere al posto dei vostri piccoli cuori ripieni di peccato il mio cuore immacolato perdonarvi la mia stessa capacità di amare e così trasformare la vita di ciascuno di voi finalmente vi ho voluto qui perdonare a tutti il mio spirito così che in voi io possa veramente vivere e operare è giunto il momento in cui voglio manifestarmi attraverso di voi a tutta la chiesa poiché sono arrivati i tempi del trionfo del mio cuore immacolato sono la vostra celeste condottiera vi ho voluto qui per accogliervi nella mia schiera ordinata battaglia perché è l'ora di passare con me al combattimento non temete apostoli del mio cuore immacolato figli prediletti della vostra mamma celeste agli ordini del vicario di gesù andate in ogni parte della terra e diffondete la luce che parte dal mio cuore fra poco comprenderete pienamente il grande dono che in questi giorni ho fatto a ciascuno di voi allora capirete perché quest'anno vi ho voluti tutti qui a fatima in un cenacolo che è stato straordinario di grazie per voi e per tutti i figli sparsi in ogni parte del mondo